ciao ragazzi quest'oggi facciamo in cucina per smontare il H47 e verniciare questi due pezzetti di nero perché così siamo andati al progetto che ho in testa io e anche uno dice vabbè ma il Mendes sta smontando il suo fucile normale capitano Mendes ok ragazzi operazione completata come vi ho detto il lavoro è stato eseguito ad opera d'arte fantastico nero sembra sembra cazzo sembra ebano invece del gnoccio serbo pitturato di agrilico italiano nero vago come il furgone allora benissimo adesso dopo intenso uso del canapa ecco il toccato solo dai inseriamo chiudiamo qui a serbi bravi tre due giorni resta un po' molto serbo ok martellino un po' molto Ah, sta bene. Ecco. Allora, ecco. Allora, ecco. Capuntala. Ok. C'è il bottoncino qua in parte che è una cosa agghiacciante. Ecco. Tecnologia sovietica, cioè, bisogna essere delle bestie. Ecco, comunque. Questo è il risultato, insomma. Ok, adesso l'ottica. Mocchio. Mocchio. Gravitatore. Otticchina serva con anche tic lucettina per illuminare il mirino internamente. Eccolo qua. Questo, signore e signori, è lo Zasta Vago 70. Ci vediamo all'inferno. Mocchio autolorm casuale. Otti, non? Cona Quinta. Tutto. Vここ.